Amici di Arcade Story, siamo al Bologna Nerd, domani 25 giugno inizierà lo spettacolo del Bologna Nerd, stiamo allestendo, infatti alcuni cabinati devono essere ancora accesi ma nessun problema, è tutto quanto messo in preventivo. Come vedete abbiamo portato due Taekwondo perché sono sempre pieni e hanno bisogno di essere assolutamente giocati, abbiamo portato il bellissimo Ninja Warrior con i tre monitor, Quick and Crash per sfidarsi alla pistola più veloce, Bionicomando, Gemini Wings e ragazzi sorpresa dei sorpresi vi abbiamo portato anche Shinobi, quindi il classico moto Super Rengon, After Banner, Monaco GP, OutRun, APB, Sprint 2, il primissimo Sprint con la quale poi è iniziata la saga del mitico fino ad arrivare al mitico Super Sprint. Qua abbiamo gli sparatutto, quindi VART, Space Invaders, Asteroids, Parodius, R-Type, Messenger, Russian Attack, abbiamo il bellissimo Rainbow Island, Magic Sword, qui è la caratteristica dei giochi un po' non splatter ma sul genere horror e quindi non poteva mancare Splatterhouse, Pyros, Black Tiger, Ghost and Ghost e l'immancabile Ghost Goblin. Andiamo avanti, qui abbiamo i Nintendiani, quindi Donkey Kong, il Super NES, se non l'avete mai visto vi consiglio di venirci a trovare così da vederlo, Super Mario, Frogger, Dig Dug, Magic Worm, Heavy Barret, continuiamo con i giochi di Mercs, Ghostbusters, Super Punk, Final Fight, Capitano America e gli Avengers, Bad Dad, qui abbiamo, guardate come si faceva una volta per sistemare questi problemini, si dava un colpo, adesso non va, comunque dandovi un colpo una volta tornava, comunque si è tolta solamente una connessione, la rimettiamo subito a posto. Qui abbiamo un laser game di Dragon Slayer 2, Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 1 vicini, Street Fighter 1, Killeristic, purtroppo ci ha completamente abbandonato il monitor di Street Fighter 2, vediamo se entro domani e riusciamo a sistemarlo. Qui abbiamo il Vampire Hunter, cosa è successo? Non va il monitor, adesso mettiamo a posto anche questo di Baby Pacman, Pacland, Junior Pacman, Super Pacman e Miss Pacman insieme a Galaga. E poi abbiamo i draghetti più simpatici dell'arcade, da Bubble Bubble a Puzzle Bubble. E poi andiamo sugli sportivi, quindi NBA Jam, Virtua Striker, Pigskin, Tobin, il mitico Superstars Wrestling, il cocktail di Track and Field e infine Vindicators. Bene, carrellata di tutti i giochi che abbiamo portato. Vi aspettiamo al Bologna Nerd e da domani ci sarà anche la porchetta. Ciao a tutti!